Ehi la ciurma, io sono la ZS e ben ritrovati qui su Expeditions Viking. Pensavate che fosse tutto finito, invece sono tornato qualche giorno dopo per andare a sfoltire un po' gli achievement che volevo recuperare e alcune di queste cose volevo mostrarle. In particolare l'achievement è quello legato alla morte del padre. L'achievement è The Final Expedition. No, forse la missione si chiama The Final Expedition. L'achievement è quello Dear All Dead. In pratica seguendo le guide su internet ho visto che bisogna andare nelle swamp, per cui prima cosa andremo nelle swamp e ci vediamo quando stiamo là, non vi faccio perdere troppo tempo. Premessa, l'area delle swamp viene sbloccata dopo la quest di Merchant Connection e ci siamo già stati in passato. Qui dovremmo trovare, da quello che si dice, vicino alla zona di partenza, un cadavere con un talismano. Appena lo trovo, vi farò sapere. Allora immagino che fosse quello proprio dall'altro capo. Qua c'è un un cadavere che avevamo già visto in passato, ma questo qua non l'avevamo visto probabilmente. E infatti ha addosso il talismano di tuo padre. Ricordi bene il suo talismano della tua giovinezza? E' ancora l'odore di nostro padre. Lo prendiamo e dice, ma questo è di Megan Bjorn. Ma tuo padre, cioè tuo zio ha portato il suo corpo a casa, non potrebbe, cioè questo cadavere non può essere lui. Cosa può significare? Di sicuro è stato qua. Allora, guarda la casa bruciata. Ci sono molte tracce qua. Sembra che c'è stato un combattimento qui prima dell'incendio. Allora, ci mette un po', ma scopre che ci sono state parecchie persone qui, ma poche se ne sono andate. Quelli che sono andati sono andati giù a sud, lungo la costa. Se andiamo in quella direzione dobbiamo tenere i nostri occhi aperti. Ok. E questo dovrebbe avviarci in pratica la possibilità di trovare un altro posto che è l'accampamento dei pescatori, a cui dovrebbe essere a sud di Offorwick. Allora, da Offorwick a sud-est, per cui qua è Offorwick a sud-est questo qua. Ah, ma qui saranno stanchi, va bene, va bene. Ci accamperemo e ci vediamo tra poco. Non si vede dalla mappa all'inizio, comunque è normale. Ok, come potete vedere sono arrivato qua a questo accampamento ed è apparso il villaggio dei pescatori. Per cui andiamo al villaggio dei pescatori. Dovrebbe essere dove troviamo delle informazioni per continuare la missione. Da qua in poi non ho letto niente, per cui è completamente spoiler free. Ho solo letto le informazioni per riuscire ad arrivare in questa situazione qua. Grazie alla wiki di Expeditions Viking. Allora, e tra l'altro qua magari ci sarà qualche kern o qualche... Ah, questo è tutto saccheggiato sembra. Beh, il tuo padre è stato di sicuro qui. Cosa pensi che sia successo qua? Forse ha addentrato più di quello che poteva mordere, più di quello che poteva mangiare. Sembra di sicuro che è morto con una morte da uomo. Eh sì, qua hanno combattuto, c'è stato un raid probabilmente. Hanno attaccato. Ho visto un kern. Dov'è? Forse l'ultimo. È sulla costa, tra l'altro. Sì, probabilmente sono sbarcati qua. Hanno attaccato, più dopo sono stati inseguiti. Non era l'ultimo. Non era l'ultimo kern. Eh? No, ok, ci sono un corpo. Hmm. Un antico scudo. Ah, questo è probabilmente quello per l'achievement dell'armatura, ma noi abbiamo dato via tutta l'armatura, praticamente, per cui non non potremo più farlo con l'achievement. Perché c'era un achievement di avere tutta l'armatura da legionario, ma abbiamo dato tutto via perché l'abbiamo scraftati probabilmente. Eh... Delle tombe viking? Ora sappiamo cosa è successa alla spedizione di tuo padre. Ah, ok. fine così. Hanno attaccato quindi questo villaggio qua. Sono stati... ma pensavo qualcosa di più in realtà. Abbiamo solo... trovato un posto dove hanno fatto il raid e poi... fine. Non ci sono delle... croci per caso qua. Mi sa di no. Per quello dovrò fare... c'è un'altra lista per fortuna con tutte le cose. Qua c'è un altro barile. Boh, niente. Beh, se no abbiamo trovato il kern e abbiamo sbloccato l'achievement. Detto questo per questo breve episodio sull'achievement della morte del padre è tutto. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento qui sotto, iscrivetevi per caso non lo siete fatti. Ci vediamo. Farò ancora un achievement per... c'è un altro video di sicuro per un altro achievement che è interessante. Ciao a tutti e buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.